Siete tanti cartelli dei ragazzi e delle ragazze che erano qui oggi, sentite le parole delle loro predizioni, della loro rabbia, della loro rabbia, perché di rabbia dobbiamo parlare, abbiamo fatto tronti i punti di silenzio, abbiamo bisogno di guidare, abbiamo bisogno di guidare forte e abbiamo bisogno di guidare forte e abbiamo bisogno di realizzare questo fenomeno fino in fondo e di dirci la verità. La verità è che il fenomeno della violenza sulle donne, i femminicidi che viviamo sul nostro territorio si fondano su una società patriarcale nella quale la libertà e i diritti delle donne sono cacciostati ogni giorno. E il mondo quale, i diritti delle donne si sentono un diritto davanti a un diritto che rende la propria società, la propria organizazione e i diritti di poter silenziarlo. Questo è il fatto. Grazie. Grazie.